Pontida è un appuntamento importante che influirà sulla verifica sul futuro della maggioranza. Così Roberto Maroni ha due giorni da raduno leghista. Un nuovo distinguo da Berlusconi che ieri aveva dichiarato non ho paura di nessuno, la maggioranza tiene assolutamente. Nell'inchiesta sulla cosiddetta loggia P4 spuntano i legami con uomini dei servizi. Gli 007 avrebbero fornito notizie riservate al deputato del PDL Alfonso Papa per costruire dossier e ricatti. Lui si dichiara estraneo, lunedì interrogatorio di garanzia per Luigi Bisignani, ora agli arresti domiciliari. Strade di Napoli nuovamente invase dall'immondizia dopo l'ennesimo rinvio del decreto sui rifiuti da parte del Consiglio dei Ministri. La posizione della Lega è frutto di un ricatto politico, tuona il governatore Caldoro. lanciati per protesta sacchi di letame contro il Palazzo della Regione. A due settimane dall'inizio dei lavori cresce la tensione, il rischio di scontri in Val di Susa. Ha emessi cinque nuovi avvisi di garanzia contro manifestanti no-tav, 65 solo negli ultimi giorni, perquisita anche la casa del loro leader nel Torinese. L'Italia insiste per l'estradizione di Cesare Battisti. Il Ministro degli Esteri Frattini ha chiesto alle autorità brasiliane l'apertura di una commissione permanente di conciliazione sulla vicenda, così come previsto dalla Convenzione tra i due Paesi. Dunque, buongiorno dal telegiornale della Sette. Calendario alla mano, mancano ancora 48 ore all'appuntamento di Pontida, quello in cui Umberto Bossi ha deciso, sarà l'unico a parlare e a confrontarsi direttamente con la piazza, la base leghista in fibrigazione. Di fatto, allora, gli occhi di tutti sono puntati su cui l'appuntamento si rimanda a ogni verdetto, in particolare fa rumore in qualche modo il silenzio della Lega, l'immagine di ieri, quella di un Berlusconi che professava ottimismo e un Maroni accanto a lui in silenzio ad ascoltarne, un po' un simbolo di quest'asse tutta da verificare, proprio a cominciare da domenica. Noi cominciamo dal servizio di Andrea Molino. Lo spettro delle inchieste, la Lega in fibrillazione, la verifica di governo sono almeno tre i fronti che mettono a dura prova l'ottimismo di Berlusconi. Il Premier tenta la prova muscolare, parla di governo forte, ma dietro le quinte tutto si muove. Preoccupa l'inchiesta sulla P4, che sembra allungare le sue ombre sul sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, uomo chiave del berlusconismo. Nella cerchia stretta si cerca di misurare il possibile impatto, ma più degli atti processuali preoccupa l'aria che tira, il fantasma di un nuovo 92 con la magistratura, che spazza via una classe politica. Ma le attenzioni non possono concentrarsi tutte su questo fronte. Bisogna fare i conti con la Lega, che all'antivigilia dell'appuntamento di Pontida è a sua volta costretta a tenere alta la tensione. Necessario, infatti, drammatizzare l'appuntamento, farlo vivere come uno spartiacque che segnerà una fase che archivia quella bocciata dagli elettori. Le parole di Maroni oggi vanno in questa direzione. Pontida è un appuntamento importante per la salute della Lega, che è determinante e giocherà un ruolo da protagonista. Così la Lega chiede anche un blocco navale per impedire ai libici di arrivare sulle nostre coste. Berlusconi non crede nello strappo, anche il carroccio è tramortito, le urne non convengono neanche a via Bellerio. L'incognita per ora è quanto sarà alto il prezzo da pagare se consentirà il prosieguo della navigazione. Poi si avrebbe offerto garanzie e sarà solo lui a parlare sul pratone. Ma gli umori della base potrebbero spingerlo più in là di quel che desidera. Per rabbonire gli alleati, ieri dal Consiglio dei Ministri, due passi ad hoc, misure più dure per il rimpatrio dei clandestini e un impegno sufficientemente generico da non compromettere gli impegni internazionali sul futuro della missione in Libia che non deve trasformarsi in una palude. Ma sulla strada della maggioranza c'è anche la verifica di governo del 21 al Senato e 22 alla Camera. Il Premier aspetta Pontida per valutare e decidere se mettere o no la fiducia. Paradossalmente gli potrebbe convenire andare alla conta. Il Parlamento è rimasto l'ultima roccaforte. Meglio incassare lì un successo, seppur debolissimo, che possa far tirare un po' il fiato. Allora nel servizio che era di Marinella a Resta abbiamo sentito le incognite legate alla maggioranza, ma insomma questo spartiacque di Pontida viene sentito come tale anche dall'opposizione che non crede in blocco allo strappo possibile da parte di Umberto Bossi. Tutto rimandato a Pontida anche per l'opposizione. Se sarà crisi si vedrà soltanto là. A scommetterci c'è da dire sono in pochi anche tra le file dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico. O domenica a Pontida la Lega rompe oppure precipita giù col Premier, dice il portavoce dell'Italia dei Valori Leo Luca Orlando, convinto che gli italiani non ne possano più dei cosiddetti penultimatum del carroccio che si fermano sempre ad un passo dalla fine e che finiscono, aggiunge Orlando, sempre a Tarallucci e Vino. Per il vice segretario del PD Enrico Letta Pontida è l'ultima chance per la Lega di scendere da un treno che sta andando a sbattere per non andare a fondo con Berlusconi. Massimo D'Alema dice di attendere con rispetto ciò che la Lega dirà, ma aggiunge il presidente del Copa, a Sirio i problemi che l'Italia si trova ad affrontare disegnano una situazione insostenibile che un governo così debole, una maggioranza così precaria e senza la fiducia dei cittadini non è più in grado di affrontare. In attesa di Pontida l'opposizione prova ad immaginare un'alternativa. Nel terzo polo i segnali di apertura di Casini al PD seguono la chiusura di Fini che ricorda che la sua casa naturale è il centro-destra. E sulla leadership futura dello schieramento nuovo botte e risposta tra Vendole e Bersani. Su chi sarà il leader deciderà la saggezza del popolo dice il presidente di Sinistra Ecologia e Libertà che preme per primaria al più presto. Non conosco il popolo, conosco i cittadini e la replica del segretario del PD Bersani. Maggioranza che in queste ore deve necessariamente prendere posizione e puntare gli occhi anche su un'inchiesta che si allarga quella sulla cosiddetta P4 dopo l'arresto di Bisignani, la richiesta di autorizzazione a procedere per il deputato PDL Papa quello che emerge dalle carte è un fitto, il dreccio, una rete di informazioni riservate di legame con gli 007 il tutto per gestire nomine, appalti e quant'altro. Ascoltate Tiziana Stella. Agenti dei servizi segreti legati a doppio filo con la P4 quello degli infedeli è il capitolo forse più inquietante del potente sodalizio tra il faccendiere Luigi Bisignani ed il parlamentare del PDL Alfonso Papa l'inchiesta napoletana si concentra proprio sulla rete capillare di informatori su tutti gli 007 gli uomini delle forze dell'ordine che fornivano notizie segrete a Bisignani e Papa e che i due sempre secondo l'accusa usavano per favorire o ricattare persone anche delle istituzioni Bisignani fa mettere a verbale Papa mi diceva di poter contare su un gruppo di ufficiali di polizia giudiziaria ed in particolare su un carabiniere Enrico Lamonica attualmente irreperibile che attingeva notizie riservate dagli uffici giudiziari di Napoli ma dichiara Bisignani non c'è dubbio che i canali informativi di Papa erano prevalentemente nella guardia di finanza le truppe di Papa così le definisce un testimone il magistrato Umberto Marconi coinvolto nell'inchiesta romana sulla P3 ma ritenuto attendibile dai PM napoletani Papa utilizzava le sue energie per tessere rapporti nell'ombra con carabinieri e servizi segreti truppe che utilizzava per perseguire i suoi scopi personali ha spiegato Marconi il parlamentare del PDL conosceva bene anche Pio Pompa collaboratore dell'ex capo del Sismi Pollari indagato per i dossier riservati su politici giornalisti e magistrati conservati nell'archivio segreto di Via Nazionale contro di me non c'è niente sono tranquillissimo dichiara Alfonso Papa un altro capitolo però riguarda le sue donne l'ex assistente l'avvocato Maria Elena Valenzano nega di aver mai ricevuto da lui regali o gioielli anche se ammette così come Maria Roberta Darsena una sua vecchia amica assunzioni e false consulenze proprio ottenute grazie alle entrature di Papa contratti che secondo i magistrati l'uomo politico otteneva in cambio delle informazioni riservate fornite a politici ed imprenditori dalle intercettazioni emergono stretti legami anche con la RAI e davanti ai PM l'ex direttore Masi dichiara che la lettera di licenziamento per Santoro la scrisse è lo stesso Luigi Bisignani mi rivolsi a lui dice Masi proprio per le sue conoscenze politiche e intanto si moltiplicano le reazioni dei politici chiamati in causa o lambiti dall'inchiesta dopo Gianni Letta e Giulio Tremonti stamattina Roberto Castelli ha fatto sapere non ho mai ricevuto richieste da Alfonso Papa quando ero ministro della giustizia anche su questo Bisignani dovrà rispondere durante l'interrogatorio di lunedì prossimo C'è un altro versante dell'attenzione politica tra Lega e PDL quello che ancora una volta costringe Napoli a un'emergenza quotidiana temperature alte cumuli di rifiuto in tutta la città ma anche in provincia tutto legato a quel decreto rifiuti quello che consentirebbe alla regione di andare in altri siti a trasferire rifiuti bloccato ancora una volta proprio dalle resistenze leghiste sentiamo la situazione da Luigi Hermetto Questa la fotografia di Napoli stamattina le strade del centro e della periferia nuovamente invase dalla spazzatura dopo un altro rinvio dell'esame in consiglio dei ministri del decreto sui rifiuti lo spettro di una nuova emergenza è alle porte il provvedimento non è stato inserito all'ordine del giorno questa la versione del governo i parlamentari campani protestano perché lo stop sarebbe stato determinato come la prima volta da un veto messo dal partito di Bossi ne è convinto anche il presidente della regione che batte i pugni sul tavolo e attacca il carroccio la posizione della Lega dice Caldoro è inaccettabile ed è frutto di un ricatto politico c'è una sentenza del Tar che ha bloccato i trasferimenti dei rifiuti fuori dalla campania il provvedimento del governo che consentirebbe l'aiuto delle altre regioni è indispensabile per non ripiombare nella crisi non si può utilizzare questo argomento strumentalmente contro Napoli e la campania continua Caldoro per fini politici si penalizzano i cittadini i rifiuti di Napoli sono ancora una volta a motivo di scontro politico anche fra gli stessi appartenenti del centrodestra e il governatore in queste ore deve fare i conti anche con le proteste della gente questa mattina sacchi di letame sono stati lanciati sotto il palazzo della regione e poi continua il braccio di ferro con Luigi De Magistris il neosindaco di Napoli sulla questione termovalorizzatore nella zona est della città De Magistris si oppone alla costruzione e mette in campo i primi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza potenziamento della raccolta porta a porta più isole ecologiche e multe per chi non fa la differenziata il primo cittadino attacca governo e regione e lancia l'allarme siamo convinti che se non si interviene con ordinanze contingibili e urgenti anche sotto il profilo della sanità pubblica Napoli si espone a rischi molto concreti nelle prossime ore questa mattina il sindaco ha incontrato il prefetto la preoccupazione è che la rabbia della gente per i cumuli in strada il tutto aggravato dal caldo possa degenerare in proteste come queste e roghi ci spostiamo in un'altra zona in cui comunque la rabbia e la tensione a livelli massimi perché tra due settimane si dovrebbe cominciare a scavare apertura del cantiere in Val di Susa allora ci sono le forze dell'ordine che tentano di salvaguardare quest'inizio con una nuova operazione contro i Notav e dunque ci sono avvisi di garanzia e perquisizioni da questa mattina all'alba Raffaella Di Rosa altri cinque avvisi di garanzia oggi a Notav a meno di due settimane dall'ultimatum dell'Unione Europea per la ripresa dei lavori segno di una tensione che cresce di giorno in giorno le accuse sono di resistenza pubblico ufficiale istigazione a delinquere aggravata e danneggiamento aggravato sotto inchiesta oltre a quattro esponenti del centro sociale torinese a Scatasuna c'è Alberto Perino il leader della lotta all'alta velocità in Val Susa stamattina la sua casa condove è stata perquisita dalla Digos di Torino mi hanno portato via solo l'agenda con i conti della spesa ha detto Perino ma credo sia stato l'ennesimo autogol hanno fatto arrabbiare la gente che da oggi è ancora più determinata a resistere in tutto sono 65 gli avvisi di garanzia ricevuti negli ultimi giorni dai ribelli della Val di Susa per episodi che vanno dal gennaio del 2010 al 24 maggio scorso quando i manifestanti hanno scatenato una sassaiola contro le forze dell'ordine che volevano entrare nel cantiere di Chiomonte alla Maddalena il luogo dove dovranno entrare in funzione le trivelle la data di inizio lavori è fissata al prossimo 30 giugno pena la perdita dei fondi dell'Unione Europea a 671 milioni di euro e non ci dovrebbero essere più proroghe in valle sono attesi migliaia di agenti per presidiare l'area forse già all'inizio della prossima settimana manderemo le forze dell'ordine e non i soldati aveva detto una settimana fa il ministro dell'interno Roberto Maroni durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza chiaro l'obiettivo del governo realizzare l'opera con tolleranza a zero nei confronti delle contestazioni una posizione che piace anche all'opposizione che in Piemonte governa Torino col neosindaco Fassino ma nonostante questo proposito il cantiere è occupato da mesi dai notav intenzionati ad andare avanti nella loro battaglia contro il treno ad alta velocità il conto alla rovescia è già cominciato conto alla rovescia anche per capire il futuro della RAI i prossimi palinsesti autunnali mancano trasmissioni e volti eccellenti e oggi uscire da scoperto è proprio Roberto Saviano ascoltiamo Daniela Gratti non c'è futuro il RAI per Roberto Saviano perlomeno non adesso la trasmissione Vieni via con me non è prevista nei palinsesti autunnali appena approvati proprio come anno zero di Santoro il programma non si farà ma Saviano è determinato invece a rifarlo anche altrove non so dove andrò spiega in un'intervista a Repubblica non so chi avrà il coraggio di ospitarlo se non vorrà farlo nessuno ci inventeremo uno spazio magari all'estero programma scomodo come dimostra anche il caso dell'avvocato Pino Neri sotto processo con l'accusa di essere referente al nord delle cosche calabresi di lui Saviano ha parlato in una delle puntate e ora Neri ha querelato lo scrittore per diffamazione programma scomodo e dagli ascolti record ma la RAI aggiunge Saviano lavora contro le sue migliori trasmissioni del successo di Vieni via con me ha preferito non parlare dimenticarlo naturalmente quel lo faremo altrove non lascia aperte molte possibilità una delle voci più insistenti se ne è parlato molto in questi giorni è che il programma approdi alla 7 quel che è certo è che la situazione della televisione pubblica gli appare deprimente e da telespettatore precisa bisognerebbe difendere i programmi che si vogliono vedere se vogliamo una trasmissione dice prendiamocela chiediamola quasi un appello a quel popolo che tra amministrative e referendum si è messo in marcia come lui stesso spiega per una rivoluzione liberale non c'è più l'indifferenza non c'è più quell'atteggiamento di distanza che faceva sì che i poteri potessero comprare un voto a poco prezzo poter condizionare con semplici manovre pubblicitarie il voto poco prima di andare alle urne questo è il grande cambiamento un popolo si è messo in marcia e la politica dovrebbe lasciarsi contaminare senza cedere all'antipolitica ma cambiando dice lo scrittore la selezione delle classi dirigenti vi proponiamo ora a una classifica del fisco per una volta non si parla di chi non paga ma di chi paga le tasse e quelli che pagano di più nord e sud piccoli e grandi comuni vediamo i numeri nel servizio Francesca Roversi nell'Italia dove sono tanti a non pagare le tasse le stime ufficiali parlano di circa 120 miliardi di euro sottratti ogni anno al fisco c'è anche chi di imposte ne paga parecchie a stilare la classifica pubblicata stamattina dal Corriere della Sera il centro studio dell'associazione dei comuni la graduatoria conferma che il nord paga di più rispetto al sud del paese andando nel dettaglio ci sono diverse curiosità come il fatto che contrariamente a quanto si pensa sono i piccoli comuni avversari di più il primo in classifica è Basilio in provincia di Milano cresciuto e sviluppatosi grazie a Milano 3 il quartiere residenziale costruito da Berlusconi i suoi 8 mila abitanti pagano la bellezza di oltre 9.700 euro di tasse all'anno seguono Campione d'Italia sede però di un casino Cusago sempre nel milanese Pino Torinese in provincia di Torino e Torre d'Isola in provincia di Pavia in cima alla classifica di chi paga meno però ci sono ancora due comuni del Comasco Val Rezzo al primo posto e Cavagna al secondo seguiti ovviamente da tre comuni del profondo sud Milano che si aggiudica il dodicesimo posto in assoluto è il primo tra i capoluoghi di provincia che paga più tasse ben 6.350 euro pro capite all'anno Roma per così dire è più economica e si piazza al decimo posto i suoi residenti versano all'erario 4.350 euro l'anno nell'elenco di chi paga di più in testa oltre a Milano ci sono altri tre comuni lombardi Bergamo Monza e Pavia andiamo ad aggiornare ora la situazione in Grecia dove via via prende forma il nuovo rimpasto di governo per cercare di arginare la crisi ma soprattutto per placare la rabbia della piazza e poi c'è il destino degli aiuti europei che sono attesi oggi la Merkel e Sarkozy hanno chiesto tempi rapidi all'Europa non è un vero e proprio cambio della guardia restano i socialisti e resta Gheorghe Papandreu a lui il compito di portare a termine le riforme della salvezza come fu per suo padre e per suo nonno che governarono la Grecia in altri momenti drammatici si gioca così l'ultima carta un rimpasto lampo di governo che prevede il passaggio di Evangelos Venizelos dal ministero della difesa alle finanze è questo l'epicentro di tutto per cui si cambia manico sperando in risultati migliori la borsa di Atene almeno questa mattina ci crede guadagna due punti un po' di fiducia non guasta anche perché le proteste di piazza degli ultimi giorni contro il piano di risanamento hanno lasciato il segno le immagini hanno fatto il giro del mondo così come l'incertezza sul salvataggio che sta segnando l'Europa si attende per domenica il via libera la quinta trancia da 12 miliardi di euro di aiuti mentre l'11 luglio si deciderà sulla partecipazione del settore privato al secondo piano di salvataggio tutto questo mentre dal fondo monetario internazionale arriva il solito avvertimento i soldi li diamo solo se Atene fa le riforme il quadro si mostra insomma ancora incerto non potrebbe essere altrimenti il debito di Atene è una polveriera da 310 miliardi di euro di cui 130 innervati nelle banche europee problema che riguarda soprattutto gli istituti francesi e tedeschi i nostri sono stati molto più prudenti dai 53 miliardi d'oltre Alpe 5 a carico solo di BNP Paribas si passa ai 34 della Germania con commerce la più esposta da noi la cifra totale non arriva ai 3 miliardi è rassicurante anche se la paura del contagio ieri ha messo sotto pressione i titoli del nostro debito pubblico non le banche quindi ma il tesoro lo spread dei nostri BTP cioè il premio a rischio riconosciuto a chi li acquista è arrivato al 2% in più rispetto a quanto paga la Germania tensione oggi rientrata sulla quale ha lanciato però qualche obliquo monito anche la banca centrale lei deve difendere l'euro tornata a quota a 1,41 dollari livello interlocutorio in attesa di avere qualche certezza ci sono novità sul caso Battisti dopo la mancata estradizione da parte del Brasile l'Italia insiste nuove mosse da parte del ministero degli esteri in infracola santo è tutt'altro che chiuso il caso Battisti dopo il no della corte suprema brasiliana all'estradizione dell'ex terrorista il ministro degli esteri italiano Franco Frattini tenta una nuova carta la Farnesina ha dato mandato alla nostra ambasciata a brasilia di attivare la commissione permanente di conciliazione un organismo previsto dalla convenzione stipulata tra Italia e Brasile nel lontano 1954 il nostro governo annuncia in una nota il ministero degli esteri intende infatti deferire a tale commissione la controversia sul caso Battisti dopo aver richiamato temporaneamente l'ambasciatore italiano in Brasile ed aver annunciato l'intenzione di presentare ricorso alla corte internazionale di giustizia dell'AIA per l'estradizione negata a Battisti l'Italia ribadisce l'intenzione di andare fino in fondo di adottare tutte le iniziative possibili affinché Battisti venga estradato ex militante dei proletari armati per il comunismo Cesare Battisti era stato arrestato in Brasile nel marzo del 2007 dopo una latitanza di oltre 20 anni trascorsa soprattutto in Francia in Italia pesano sulla sua testa quattro ergastoli per il suo coinvolgimento a vario titolo in altrettanti omicidi commessi negli anni 70 accuse che Battisti ha sempre negato l'attuale conclusione della vicenda rischia di gelare i rapporti tra Italia e Brasile basti pensare alla decisione dell'ex presidente Lula di rinunciare per paura di contestazioni a partecipare all'elezione del nuovo segretario generale della FAO a Roma per ora le contestazioni si sono limitate al lancio di arance dagli spalti del foro italico contro due giocatori brasiliani che disputavano una partita ai mondiali di beach volley sono state tre settimane di inferno ma poi è arrivata la resa per il deputato democratico Wiener parliamo di uno scandalo alla luce rossa che gli ha costato una carriera che poteva pensate portare addirittura sulla poltrona del sindaco di New York e particolari da Damiano Ficoneri pensavo di poter continuare il mio mandato ma visto lo scandalo che io stesso ho creato oggi davanti a voi mi dimetto pensava male il deputato democratico Anthony Wiener perché questi sono gli Stati Uniti e quegli scandali sessuali si pagano non per puritanesimo come spesso ci viene raccontato ma perché rivelano una doppia vita una vita fatta di menzogne che porta gli elettori a non potersi più fidare volevo continuare ma sono i giorni in cui l'America comincia ad entrare nel vortice che porterà le presidenziali e non ci possono essere anelli deboli nella catena democratica io al suo posto mi dimetterei aveva consigliato Barack Obama e quando parla il presidente degli Stati Uniti il consiglio diventa un ordine detto fatto ora la speranza per i democratici è che gli elettori dimentichino al più presto non solo le foto palestrate a petto nudo o quelle maliziose in mutande mandate in giro su Twitter a donne sparse in mezza America ma soprattutto la speranza che dimentichino che il deputato era un uomo di punta del partito a New York che nel 2005 si era candidato a sindaco ed era pronto a ripresentarsi nuovamente questa volta avendo già raccolto 4 milioni di dollari per dare il via alla campagna elettorale che era ospite fisso a casa Clinton dove la moglie Uma Abedin bella e molto in gamba ora anche incinta è una delle collaboratrici più fidate del segretario di Stato Hillary che vista la sua esperienza forse avrà qualche buon consiglio da darle per mettersi alle spalle se non il marito almeno questa brutta storia Adesso andiamo al calcio alla caccia di Massimo Moratti è una vera e propria caccia serve un nome quello che dovrebbe sostituire Leonardo sulla panchina dell'Inter ci sono stati rifiuti eccellenti adesso c'è un nome quello di Mijalovic che va però liberato dalla Fiorentina sentiamo Bruno Vesica Il giallo attorno alla panchina dell'Inter sembra andare verso la sua soluzione un uomo che viene dal passato Sinisa Mijalovic potrebbe risolvere il problema di Moratti abbandonato da Leonardo e preso in contropiede dal no di Bielsa già in parola con gli spagnoli dell'Atletic Bilbao sarà il patron viola Andrea della Valle a decidere nelle prossime ore sul futuro interista di Sinisa Mijalovic legato alla Fiorentina ancora da un anno di contratto fino a giugno 2012 ieri il tecnico serbo appena contattato dalla società Nerazzurra ha immediatamente informato il club viola ribadendo peraltro di essere pronto e ben felice di rispettare l'accordo con la Fiorentina tuttavia la società se in queste ore incassa il sì di Delio Rossi per la successione non pare intenzionata a frenare il proprio tecnico davanti a un'occasione così importante per la sua carriera prima in campo poi in panchina al fianco di Mancini per il primo scudetto dell'era Moratti già la scorsa estate il presidente ci aveva fatto un pensierino per poi virare deciso su Rafa Benitez scelta rivelatasi nel dopo Murigno fallimentare attendendo una risposta viola Moratti per correttezza non conferma tiene caldo Deilio Rossi e ben presenti i nomi di Claudio Ranieri navigato ed esperto in grandi ambienti calcistici e di Giampiero Gasperini per un'eventuale alternativa che prediliga dinamismo e spettacolarità di fatto c'è che la ritardata scelta del tecnico il cui tempo massimo scade in questo fine settimana blocca il versante mercato dove si parla più di uscite che di entrate così dopo i rumors riguardanti le cessioni di Schneider e Maicon ecco l'intervista proveniente dal Camerun in cui Samuel Eto'o pur ribadendo fedeltà alla causa nerazzurra appare sensibile all'asta scatenatasi attorno a lui nella Premier League una situazione scomoda che il nuovo timoniere dell'Inter qual esso sia dovrà affrontare con estrema urgenza è molto scomoda anche la stagione di Valentino Rossi e in questo caso la Ducati fa fatica ma se la stessa Ducati si confronta con i numeri della Superbike questo weekend il settimo del mondiale sul circuito spagnolo nuovo di Zecca potrebbe diventare storico vittoria numero 300 se vincesse Zecca della storia della casa di Borgo Padigale Paolo Cicinelli Alcaniz Aragona provincia a piedi dei Pirenei la terra del Ramona ospita la Superbike l'impianto è nuovissimo un vero e proprio Luna Park di 1320 ettari da fare invidia a tutto il mondo motoristico Carlo Zecca leader nel mondiale abita a 200 km dal circuito tutti stanno chiedendo che devo vincere entusiasmati però la vittoria l'abbiamo trovata l'abbiamo cercata siamo in un momento che possiamo profitarlo e non si sa mai perché arriveranno delle gare momenti più difficili Max Biaggi proverà a fermare la cursa del pilota Ducati Altea leader del mondiale sette giorni fa a Misano una scivolata però ha compromesso la prestazione del campione del mondo che ora però sta meglio spero che i tessuti la cartilagine si sia rimessi a posto il dolore è minore dunque sono molto più fiducioso abbiamo fatto degli impacchi di argilla a quanto stai come percentuale? ma secondo me anche a 90 100 non lo so sicuramente non a 70 80 più e lo vedremo in diretta in esclusiva sulla sette domenica ci fermiamo pubblicità torniamo con gli aggiornamenti pochi secondi dopo le 14 giusto il tempo di darvi un aggiornamento il presidente della Repubblica Napolitano in visita a Verona arrivano le sue prime parole un appello generale alle forze politiche che pensi sposa la situazione attuale Napolitano ha detto non bisogna avere paura di unirsi e di ritrovarsi insieme attorno ai grandi principi ai grandi obiettivi a dire che sono comuni per tutti forze politiche dunque che devono affrontare tenendo unite le forze i problemi quotidiani io qualche volta aggiunto con un pizzico di ironia napolitano ho l'impressione che in Italia ci sia chi teme che politicamente non ci si divida abbastanza con questo ci fermiamo vi ricordo il nostro sito internet per gli aggiornamenti e poi TG come sempre degli eventi grazie e buon pomeriggio a tutti grazie a tutti